Nella casa del grande fratello iniziano a crearsi le prime dinamiche Tra i concorrenti più chiacchierati di queste ore ci sono sicuramente Shai la gatta e Lorenzo Spolverato Molti utenti sui social, vista la complicità tra la ballerina e il modello, hanno iniziato a sperare in una possibile relazione, è persino già nato l'hashtag di coppia cancelletto Shailenzo Tuttavia, ieri c'è stato un primo momento di tensione tra i due gieffini, Lorenzo, infatti, ha fatto una scenata di gelosia a Shailenzo, e quest'ultima ha messo dubito le cose in chiaro Sono geloso, mi dà fastidio quando fai massaggi o parli in modo intimo con gli altri, ha detto Spolverato L'ex velina di striscia la notizia non ha esitato a rispondere. Io sono così, abbraccio e scherzo con tutti, anche fuori dalla casa Se fossi fidanzata, sarebbe diverso, ma non lo sono, questa notte, durante una conversazione con Elena Prestes, quest'ultima ha chiesto a Lorenzo come stessero le cose tra lui e Shailenzo E la risposta del modello ha spiazzato. Questa esperienza me la voglio fare da solo, io sono voglioso di carne, voglio quella cosa lì La Hawlights Modernis Perizzo Buongiorno Perizzo Perizzo Voral Perizzo Perizzo CASTRO Perizzo